Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del Tg6 in apertura. Parliamo dei dati dell'emergenza sanitaria nella nostra regione e delle misure che da lunedì scatteranno con le nuove zone rosse per tanti comuni della provincia dell'Aquila. Principale responsabile dell'aumento dell'RT nella nostra regione è arrivato a quota 0.89. Nel bollettino delle ultime 24 ore ci sono 238 nuovi casi Covid e 13 decessi. Continua però il calo dei ricoveri. Vediamo tutto nel servizio. Ricomincerà con 41 comuni in zona rossa da lunedì la settimana dell'Abruzzo che resta zona arancione ma è preoccupato dall'aumento dei casi nella provincia aquilana. Proprio quella al centro dell'ordinanza firmata ieri sera al termine della riunione del venerdì dell'unità di crisi della regione Abruzzo. L'indice RT dopo settimane di discesa continua è tornata ad aumentare assestandosi a 0.89, un incremento causato proprio dall'aumento dei contagi nella provincia dell'Aquila. Dunque da lunedì Avezzano ed altri 36 comuni della Marsica, della Valle Roveto ma anche della Piana di Navelli saranno oggetto di più stringenti restrizioni a fronte dell'uscita da zona rossa di Pratola Peligni e Corfinio. Nelle altre province escono dalle maggiori restrizioni Lentella per il Chietino, Colle Corvino, Rocca Morice e San Valentino per il Pescarese, Sant'Omero, Sant'Egidio alla Vibrata, Albadriatica, Canzano e Pietraltra di Valle Castellana per il Terramano. Dove però ci sono tre comuni che entrano in zona rossa e sono Martinsicuro, Colonnella e Nereto. Per quanto riguarda i dati odierni sono 238 i nuovi positivi con un tasso di positività che si attesta al 4% in discesa di un punto rispetto a ieri. Sono 13 invece i decessi recenti, mentre aumentano le guarigioni ma anche gli attualmente positivi. Ancora in calo i ricoveri, più decisamente in area medica, meno 14, ma anche in terapia intensiva dove si è liberato un posto letto. Inaugurato il centro vaccinale della caserma Antiochia Pescara, i poliziotti vaccineranno anziani e soggetti fragili. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Anche la polizia somministra i vaccini, aperto il centro vaccinale alla caserma di Via Salaravecchia Pescara. A volte combinare delle sanzioni è necessario, ma sicuramente non è un compito che gratifica l'operatore di polizia. Essere qui al servizio dei nostri anziani somministrando magari una dose di vaccino che forse sarebbe stata somministrata con qualche mese, qualche settimana di ritardo. Noi sappiamo che il tempo gioca a nostro sfavore, quindi aprire queste linee di vaccinazione, farlo presto e farlo qui per noi è importantissimo. Siamo molto orgogliosi, quindi è il regalo che la Polizia di Stato e quella di Pescara in particolare fa a tutta la città e alla provincia. Per i prossimi tre mesi, per tre mattini a settimana, qui saranno vaccinati gli ultimi over 80 che non hanno ancora ricevuto la dose e i soggetti fragili. Due le linee vaccinali a cui se ne potrebbe aggiungere una terza in futuro. Oggi per questo tipo di popolazione faremo il vaccino Pfizer. Ovviamente anche in base alle circolari che usciranno, eventuali nuovi vaccini, noi siamo a disposizione dell'ASL, quindi seguiremo quelle che sono le indicazioni che ci arrivano dall'ASL che le recepisce poi dal Ministero. Intanto da ieri è iniziata la vaccinazione anche degli ultrasettantenni che saranno contattati dal sistema Poste e riceveranno le indicazioni per poter prenotare la propria inoculazione. Questa è veramente una sinergia importante. Poi per quanto riguarda poco o molto, l'importante è vaccinare, come dicevo prima, perché è il più grande strumento di mitigazione della diffusione del virus, il vaccino. È stata eseguita questa mattina per circa quattro ore da parte del medico legale Pietro Falco l'autopsia sul corpo di Sabatino Trotta che si è tolto la vita nel carcere di Vasto dopo essere stato arrestato mercoledì nell'inchiesta su presunti appalti truccati per la gestione delle residenze psichiatriche extra ospedaliere. Dopo l'interrogatorio di ieri intanto il GIP del Tribunale di Pescara Colantonio ha disposto i domiciliari per Luigia Dolce arrestata assieme ad un altro gestore della cooperativa Larondine, Domenico Mattucci. Vediamo il servizio. Una volta completati gli esami istologici e tossicologici saranno più chiare le cause della morte di Sabatino Trotta, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Pescara, che si è tolto la vita mercoledì notte nel carcere di Vasto, poche ore dopo l'arresto a seguito dell'inchiesta della Procura di Pescara su un presunto appalto truccato da 11 milioni di euro. Questa mattina il medico legale Pietro Falco, nell'ospedale di Chieti, ha effettuato l'autopsia disposta dalla Procura di Vasto che indaga per istigazione al suicidio. L'obiettivo è fare luce sugli ultimi istanti di vita di Trotta, che si sarebbe suicidato utilizzando il cordoncino della tuta che indossava. Gli interrogativi riguardano anche il perché avesse indosso un potenziale strumento utile a togliersi la vita e perché la vigilanza fosse così bassa nell'isolamento dovuto alla procedura anti-covid per i nuovi ingressi in casa circondariale, fatta salva la cronica mancanza di personale nel carcere vastese. A ogni modo Falco si è riservato altri giorni per completare gli esami, che poi confluiranno nella relazione da consegnare ai magistrati stonienzi. Intanto il GIP del Tribunale di Pescara Nicola Collantonio ha disposto gli arresti domiciliari per Luigia Dolce, coordinatrice della cooperativa La Rondine, al centro di questa indagine su un presunto giro corruttivo attorno alla gestione delle residenze psichiatriche extra-ospedaliere. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto l'istanza di sostituzione della misura cautelare presentata ieri dai due legali dell'indagata, gli avvocati Augusto Lamorgia e Matteo Cavallucci, a conclusione dell'interrogatorio di garanzia. Nell'ordinanza del giudice viene evidenziato che allo Stato permangono le esigenze cautelari, sussistendo in particolare il pericolo che l'indagata possa dar luogo alla reiterazione di condotte della stessa specie. Patrizia Orsini, la donna residente del quartiere Rancitelli di Pescara, dove una notte le è stata bruciata l'auto per intimidazione, adesso chiede di essere trasferita in un altro alloggio popolare, in un quartiere diverso. Dal comune però non sono arrivate soluzioni percorribili. Sentiamo. Se volete vedere scorrere il sanque, va bene, vi accontento anche in questa situazione, vi farò vedere scorrere il sanque, perché io non ne posso più. Ce l'ha con il comune di Pescara, Patrizia Orsini, la donna a cui circa un anno e mezzo fa bruciarono l'auto in una notte nel quartiere Rancitelli, a seguito di alcune denunce riguardo l'attività di spaccio. La donna, spaventata, ha chiesto un alloggio popolare in un quartiere diverso, ma le è stato proposto un posto in albergo, soluzione che lei ha rifiutato perché comporterebbe la separazione dai suoi animali domestici. Che gente abbiamo noi al comune? Senza cuore, senza un'anima, niente proprio, niente. Si lavano e scrollano le spalle dicendo ma tanto adesso tutto è a posto, non è a posto niente. Lei ha ricevuto altre minacce da quando le bruciarono? Certamente no, assolutamente no, però io me lo sento addosso il loro fiato. Ti guardano con l'occhio un po', capite a me adesso. Al fianco di Patrizia Orsini c'è il suo legale, pronto a intraprendere azioni contro il comune se ce ne fossero gli estremi, ma anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Pettinari, che continua a chiedere sgomberi e controlli. La centrale di spaccio di droga più importante del centro sud d'Italia, una di quelle più importanti del centro sud d'Italia. Lì vivono cittadini onesti che non ce la fanno più, cittadini costretti a subire, cittadini che hanno anche dovuto patire, subire veri e propri attentati alla persona, come dico io, attentati al patrimonio personale, macchine bruciate non solo. Li abbiamo sempre denunciati da anni ma lì ci sono, continuano ad essere spacciatori di droga che occupano abusivamente gli alloggi popolari, di cui non hanno bisogno. Aggiungo che su Pescara abbiamo 100 appartamenti vuoti di proprietà pubblica, popolari, che dovrebbero essere assegnati a chi ne ha diritto, quindi sfrattare gli occupanti abusivi, mettere persone che hanno diritto all'interno delle case popolari ed assegnare gli appartamenti vuoti. Non è possibile, questi gridano vendetta, 100 appartamenti vuoti in una città murati, che non vengono assegnati quando ci sono oltre 700 persone, udite udite, in graduatoria, persone con disabili, con famiglie che aspettano di avere un alloggio popolare. Secondo i progetti del Comune, il ferro di cavallo sarà presto abbattuto e al suo posto, assicura il Sindaco Masci, non ci sarà nuovo cemento. Ma Patrizia Orsini ha paura e non vuole attendere. Permettetemi di cambiare casa, ha detto la signora. Noi dall'inizio andavamo al Comune a reclamare. Sai cosa ci rispondevano? Pensate per voi. E questo l'hanno combinato loro. Con il loro manifreghismo e il loro modo di scrollare le spalle. E adesso noi paghiamo le conseguenze. Questo non è giusto. Assolutamente no. Manifestazione dei sindacati e dei lavoratori agricoli stagionali questa mattina davanti alla Prefettura di Pescara. Si chiedono ristori e la Cassa Integrazione come tutela per il lavoro perso durante la pandemia, ma anche per il rinnovo del contratto che ormai si trascina da anni. Vediamo. Sindacati in piazza davanti alla Prefettura di Pescara a favore dei lavoratori agricoli stagionali. CGL, CISL e UIL chiedono tutele, ristori e Cassa Integrazione, ma anche il rinnovo del contratto al palo da prima della pandemia. In piazza per chiedere cosa? Per chiedere i nuovi contrattuali provinciali, che sono da anni fermi. Addirittura non abbiamo neanche iniziato la contrattazione. Per quanto riguarda la provincia di Pescara siamo a sei anni di arretrati e per quanto riguarda quella di Termo siamo arrivati a dieci. Ma anche le altre province stanno a due o quattro anni senza rinnovo. In più noi chiediamo un sostegno per quei lavoratori agricolo-florovivaistici che non hanno ricevuto il bonus. Tutte le categorie hanno ricevuto il bonus dei stagionali, i lavoratori agricoli no. Inoltre, infine, chiediamo un sostegno alla Cassa Integrazione per i lavoratori della pesca. Siamo qua per rivendicare, penso, i nostri diritti. La nostra cartina al tornasole degli OTT, quindi degli opere a tempo determinato, sono le giornate. Proprio in questi giorni l'Inps ha pubblicato gli elenchi anagrafici e se andiamo a controllare, statisticamente ci sono il 25%, quasi il 26%, 25,6% preciso, di giornate in meno fatte. Quindi quello che si dice e si fa si ritrova. nel senso che siccome la disoccupazione agricola, quindi la previdenza agricola si gioca sulla disoccupazione e la scusa del governo è stata che gli operai agricoli per non avere i ristori prendono la disoccupazione, però c'è un gioco di sotto. La disoccupazione va in base alle giornate, quindi essendoci il 25% di meno c'è molta gente che non riuscirà a prendere la disoccupazione. Siamo presenti in piazza, in tutte le prefetture delle province d'Italia anche per manifestare e per il supporto del rinnovo del contratto agricolo, per il rinnovo del contratto dei forestali e di tutto il comparto del settore agricolo. Fermo ormai da diversi anni, che non ha spostato sul tavolo delle trattative nessun passo in avanti fino ad oggi. Ora la politica, primi movimenti a penne in vista delle prossime elezioni amministrative tra i partecipanti e anche Rifondazione Comunista che attacca duramente i partiti che hanno amministrato la città. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Cominciano a scaldarsi i motori a penne in vista della nuova tornata elettorale che a meno di ulteriori novità ci sarà nel prossimo autunno. Chi proverà a sedersi sullo scranno più alto di Palazzo di Città e Rifondazione Comunista che tramite il suo coordinatore comunale Gabriele Frisa è già al lavoro per formare una lista elettorale. Noi stiamo lavorando a fare una lista aperta che si contrapponga a chi ci ha governato negli ultimi 15-20 anni. Hanno fatto disastri. Chiaramente per noi non è il problema del sindaco o di chi farà il sindaco. Il problema è di creare una squadra che si contrapponga a tutta questa gente che ci ha governato da 20 anni a questa parte. Per Frisa la gestione dell'ospedale San Massimo è l'abice di una politica errata nel corso degli ultimi 15-20 anni, così come va risolta la crisi che attanaglia, la Brioni, Roman Style. Questi lavori sono stati annunciati prima a maggio che doveva iniziare a novembre, poi hanno detto che inizierà ad aprile, nel frattempo ci hanno detto anche che mettevano nuovi medici, nuovi infermieri, riaprivano i reparti, niente di tutto questo. L'unico investimento che abbiamo visto, se l'investimento si può chiamare, è questo container che costa 2.500 Euro al mese di affitto di noleggio. Oggi siamo ridotti all'unicidio, quasi un ospedale da campo, per dare tutti questi soldi alle cliniche private. Penne abbiamo la crisi dell'Abrioni che nessuno sa come si muove su questo. Abbiamo 21 parlamentari abruzzesi che stanno in Parlamento e nessuno, né sindaco di Penne né regione Abruzzo, si preoccupano di dire vediamo come salvare l'Abrioni da questa crisi, perché dopo il blocco di licenziamenti non sappiamo come andrà a finire. Noi pensiamo che bisogna quantomeno creare non so degli incubatori di impresa, oppure mettere in collegamento, in rete tutte le eccellenze che abbiamo nell'area Vestina. Qui invece si ribalta sempre sotto le lezioni di cosa si riparla? Della Mare Monti, che sono 50 anni che parliamo della Mare Monti e non si fa. Adesso ci spostiamo a Pineto, dove Paolo Passamonti approda in Forza Italia. Questa mattina è stato ufficializzato il passaggio con la presenza del coordinatore regionale azzurro Nazario Pagano, che ha anche parlato dell'ingresso del sottosegretario d'Annuntis in Fratelli d'Italia. Sentiamo. Forza Italia annuncia a Pineto il passaggio nelle sue fila di Paolo Passamonti, ex candidato sindaco, espressione della lista civica sicuramente Pineto. A farlo, nel corso di una conferenza stampa, il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale del partito, esattamente il giorno dopo aver incassato la soluzione, con formula piena, dal Tribunale di Rimini sulla vicenda Rimborsopoli, che travolse la legislatura Chiodi. Ma oltre a illustrare l'opera di riorganizzazione di Forza Italia, che vede su base locale la fattiva attività del coordinatore provinciale di Teramo, Gabriele Astolfi, si è parlato anche del cambio di casacca del consigliere forzista e sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Umberto D'Annuntis, approdato in Fratelli d'Italia. Pagano ha chiesto direttamente al presidente della regione, Marco Marsilio, il ritiro della delega e ha etichettato come gesto di debolezza l'attività di compravendita tra esponenti politici all'interno della stessa coalizione di centrodestra. Ciò che non va bene è che lui abbia mantenuto e che il presidente della regione gli abbia fatto mantenere delle deleghe che nulla avevano a che fare con lui personalmente, ma semplicemente col partito. Quindi è chiaro che c'è un problema che andrà affrontato la prossima settimana, sono già d'accordo con il collega della Lega, perché bisogna riorganizzare e rimettere a posto le cose. Noi non chiediamo di impasto, noi chiediamo semplicemente che Forza Italia, che all'esito delle elezioni regionali, avrà avuto un certo numero di seggio, un certo numero di voti e per quelli fu fatto un negoziato, gli venga riconosciuto, c'è poco da rimpastare, basta che da Nuntis si dimette e basta e finita lì. Credo che fra alleati non si debbano fare queste cose, c'è un patto, il presidente della regione fu deciso che dovesse essere a livello nazionale, che dovesse essere un esponente di Fratelli d'Italia, Forza Italia ha accettato insieme alla Lega, ha accettato che fosse un esponente di Fratelli d'Italia, l'abbiamo lealmente sostenuto, arrivò per primo la Lega, per secondo Forza Italia, per terzo a Fratelli d'Italia, non si può utilizzare il ruolo di presidente della regione per creare squilibrio all'interno di una maggioranza, che invece dovrebbe pensare a ben altro. E allora adesso voltiamo pagina, parliamo di sport, partiamo dal calcio di B e dalla gara di questo pomeriggio del Pescara. Una rete dell'ex De Sena consente al Delfino di pareggiare a Brescia per un a uno, attimi di apprezzione nel finale, per il malore occorso al tecnico Biancazzurro Grassadonia, che poi si è ripreso, ma è rientrato anzitempo negli spogliatoi, rilasciando la direzione della squadra nelle mani del vice Mancini. Vigilia del match, peraltro turbata da un caso di positività al Covid, annunciato dalla società a poco più di un'ora dal fischio d'inizio della partita. Devo vedere il servizio che riguarda proprio il match del Rigamonti e poi le dichiarazioni del DS Biancazzurro Bocchetti proprio sul malore dell'allenatore Biancazzurro. Sentiamo. Un punto nonostante tutto di speranza per il Pescara che torna da Brescia con un pareggio che tiene viva ancora la speranza cinque giornate dal termine del torneo. Ora bisognerà vincere con la Virtus Sentella per poi affrontare il turno infrasettimanale di Cosenza ancora con la speranza della salvezza in ballo. Grassadonia al Rigamonti conferma il 4-3-3 ma deve fare a meno di mezza squadra. Tra gli assenti anche un positivo al Covid. Nella formazione di casa in campo gli ex Donnarum e Biarnason. Prima parte di partita sui binari dell'equilibrio con la squadra di casa a fare la gara. Al quarto d'ora primo intervento di Fiorillo su conclusione di Donnarum. Al diciassettesimo Iagello fa centro con una conclusione a giro che non lascia scampo all'estremo difensore abruzzese. Brescia 1, Pescara 0 per il delfino avvio di partita subito complicato dal vantaggio locale che non agevola il compito del Pescara in campo. in formazione rimaneggiata. Al ventitresimo il Brescia cerca di approfittare delle palesi difficoltà ospiti ma Bisoli in area conclude sopra la traversa. Il Pescara mastica Amaro non riuscendo ad uscire con facilità dalla propria tre quarti di campo. Il film del match vede il Brescia costantemente in avanti e gli ospiti raccolti nella propria metà campo. Al trentunesimo occasione ospite con Setter che è lanciato al limite dell'area da Sorensen supera il portiere del Brescia prima di essere anticipato. Al trentatresimo Biancazzuri vicini al pareggio con un angolo e il colpo di testa di Scognamiglio che manda il pallone sul palo dopo un tocco distinto dell'estremo difensore di casa. Al quarantesimo minuto si infortuna Setter che deve lasciare il campo a Giannetti per gli abruzzesi l'ennesimo contrattempo ad un suo calciatore in una stagione molto complicata. In campo poi non accade più nulla con il primo tempo che si chiude con il vantaggio di misura dei padroni di casa. Nella ripresa il Pescara parte l'attacco pur senza riuscire a pungere al nono ci prova Odgard ma la palla finisce fuori. Preme la squadra di Gianluca Grassadonia ma il Brescia si difende con ordine e così al ventesimo è Fiorillo a salvare un gol quasi fatto ad Aghiello. Grassadonia subito dopo opera la seconda sostituzione mandando in campo Riccardi per Capone con i padroni di casa che al ventiquattresimo falliscono il raddoppio con Aie che sul secondo palo alza sopra la traversa. Squadre che si allungano con gli errori delle rondinelle che tengono il Delfino in vita e con il gol di De Sena che arriva poco dopo bravo al ventottesimo l'ex di turno a mettere alle spalle di Joronen dopo un tiro respinto a Riccardi. Parità al Rigamonti uno a uno fra Brescia e Pescara con Gutte e Valdifiori in campo nel Delfino per Maestro e Bussellato e con il Brescia che non ci sta visto che alla mezz'ora c'è la traversa a salvare Fiorillo su conclusione Bresciana. Ora il Pescara in campo con il 3-5-2 la gara resta ovviamente in bilico mentre al quarantesimo c'è un leggero malore per il tecnico del Pescara Gianluca Grastadonia che viene soccorso dai sanitari presenti al Rigamonti qualche attimo di paura con il gioco che resta fermo per 5 minuti e poi con il trainer abruzzese che rientra negli spogliatoi con le sue gambe tensione in panchina con il rosso al direttore sportivo Bocchetti poi il recupero in cui non accade nulla e con l'1-1 che è il risultato finale del match del Rigamonti che lascia ancora speranze in casa abruzzese. Il mister questi due giorni ha avuto un po' di influenza febbre e quindi oggi è svenuto in panchina se si è stato male è svenuto però adesso tutto a posto ha preso conoscenza e sta bene si entra con noi a Pescara tranquillamente quindi mi sembra di capire un calo di pressione un calo di pressione sì ok ma lei mi parlava poco fa di febbre di sintomi influenzali calcolando che c'è stato anche un caso di covid nel vostro gruppo squadra una cosa riconducibile se ci può fare anche un po' di chiarezza un po' di quello che è successo ma non pensiamo che sia questo pensiamo che comunque abbiamo avuto degli sbagli di temperatura qui in ritiro siamo passati dai 20 gradi ai 7-8 gradi nel giro di poche ore nel corso degli allenamenti quindi penso che sia stato un fatto così perché ieri sera comunque abbiamo fatto un'altra serie di tamponi e siamo usciti tutti quanti negativi quindi escludo in questo momento qua questa situazione di covid questo è il servizio di Paolo Renzetti adesso scendiamo di categoria andiamo in Serie C domani alle 12.30 sfida esterna per il Teramo che va sul campo del fanalino di Coda Cavese a caccia dell'intera posta in palio senza tentardini squalificato e con Birligea out Paci potrebbe varare il 3-5-2 con la coppia davanti formata da Pinzauti e Bombaggi e il trio di Achite Trasciani e Piacentini dietro il tecnico Biancorosso non si fida della classifica dei campani e chiede una prova importante ai suoi lo ascoltiamo in questo momento non dalle ultime esperienze perché siamo rimasti molto scottati non credo che sia giusto guardare le altre e la classifica nel senso che ricordo il viaggio di ritorno da Vibo Valenza è stato veramente pesante quindi non penso che sia giusto guardare ad altro che non sia a noi e alla nostra prestazione di domani e dovremmo essere bravi a fare un'ottima prestazione penso che sia quella la cosa importante il focus non spostarlo da lì dovremmo essere bravi noi a giocare come dovremmo giocare domani e fare il massimo quindi non mi sposterei tanto dalla nostra prestazione che è la cosa che conta più di tutti in settimana abbiamo provato diverse soluzioni per ovviare anche l'assenza di Tentardini non so con che modulo affronteremo la gara di domani e non so neanche gli interpreti però in settimana abbiamo provato diverse soluzioni Birligea purtroppo non sarà della partita perché è un discorso nostro interno abbiamo deciso di non rischiare troppo perché durante la partita non è stato benissimo anche se ha fatto un ottimo un ottimo ingresso però poi non era al 100% e lui l'ha riferito quindi anche in settimana non è stato al 100% e noi come gruppo di lavoro insieme allo staff di fisioterapia abbiamo deciso di non rischiarlo perché non vogliamo rincorrere in un altro errore in un'altra situazione in cui si può far male a ridosso di un finale di stagione e quindi abbiamo deciso per questa partita di non rischiarlo la classifica ok la Cavese non vive un buon momento ma la Cavese è composta da ottimi giocatori ha avuto delle difficoltà secondo me derivanti dal Covid dalla situazione del Covid e derivanti anche da tante partite difficili che ha avuto in casa nelle ultime quattro partite ha affrontato Catanzaro Catania Potenza e ha avuto un calendario non semplice è una squadra che ha cambiato spesso e volentieri volto perché a livello di sistema di gioco variano molto è una squadra prettamente che fa della difesa la sua forza soprattutto quando gioca in casa è una partita difficile da affrontare perché quando si chiudono nella propria metà campo è una squadra difficile da affrontare non vorrei più vedere un secondo tempo come quello della Vibonese in cui la squadra non è stata in grado di reagire al pareggio a una situazione di difficoltà la mancata reazione è stata una roba negativa perché nel calcio si può perdere perdono anche le grandi squadre per carità però essere un po' remissivi e lasciare andare il risultato così è stato per noi per i ragazzi soprattutto è stato abbastanza frustrante quindi credo che queste mie parole siano anche il loro pensiero da parte dei giocatori che non vogliono rivivere quel secondo tempo in cui non c'è stata una reazione però è stata una grande esperienza per noi perché siamo rimasti molto toccati da quel secondo tempo e spero che abbiamo capito domani venticinquesima giornata in Serie D col Castelnuovo che va a far visita al Campobasso primo in classifica per il notaresco trasferta insidiosa Castelfidardo così come quella del Giulianova allo Scopigno di Rieti impegno interno per il Pineto che dopo il successo nel recupero di mercoledì affronta il fanalino di coda atletico Porto Sant'Elpidio il servizio è di Jacopo Forcella dopo le festività pasquali e il giovedì che aveva riconsegnato il Campobasso sempre più leader del Gironef la Serie D torna in campo per la giornata numero 25 con la capolista che al nuovo Romagnoli attende l'arrivo del Castelnuovo la cui marcia ha subito un rallentamento nelle ultime settimane i nero-verdi sono reduci da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite proprio in Molise cercano il riscatto con una freccia tutta nuova nello scacchiere tattico di Guido Di Fabio si tratta di Davide Verdesi esterno attacco classe 2002 che nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del Pineto con buone prestazioni mettendo anche nel suo personale score un gol e due assist partita difficilissima dunque per l'undici abruzzese perché dalla parte opposta troverà una formazione quella di Cudini che adesso sogna di dare la strattonata decisiva al campionato prima dello stop che ci sarà tra 15 giorni per permettere di disputare i recuperi Di Fabio però dopo le due giornate di stop per squalifica ritrova Massimo Loviso Cudini perde per un turno al centro della difesa Dalmazzi chi differà per un risultato positivo del Castelnuovo sarà certamente il notaresco reduce proprio dalla sconfitta del big match di giovedì scorso al Savini i punti di distacco in classifica in questo momento rispetto al campo basso sono 5 ma il notaresco deve recuperare una gara in più rispetto ai molisani e questo almeno potenzialmente potrebbe portare le distanze a ridursi fino al meno 2 il problema anzi i problemi sono due il primo è che il campo basso è in fiducia galvanizzato il secondo è l'avversario che l'11 di Epifani si troverà di fronte domani il Castelfidardo la squadra marchigiana infatti neopromossa è una delle sorprese in positivo di questo raggruppamento e lo dimostra il settimo posto in classifica con pagina allenata dall'ex difensore Maurizio Laureo con diversi giocatori di qualità all'interno del proprio organico inoltre il tecnico rosso-blu Massimo Epifani dovrà fare a meno degli infortunati Bianciardi Colombatti e Marcelli e gli squalificati Banegas e Gallo presto però il notaresco per colmare l'assenza pesante di Bianciardi potrebbe virare su Alberto a quadro in mezzo al campo giocatore di indiscusso spessore che Epifani ha avuto già a Pineto e che in questo momento gioca nel Gironei con la maglia del Messina dopo il recupero vittorioso di mercoledì con la rete decisiva di Minnozzi sul campo del Monte Giorgio il Pineto chiede al suo campionato un'ulteriore accelerazione contro l'ultima della classe l'atletico Porto Sant'Elpidio che dopo 40 giorni dopo squadra torna finalmente a giocare ieri pomeriggio infatti sono stati effettuati tamponi di rito che hanno dato esito negativo per tesserati staff e dirigenti della squadra marchigiana affrontiamo una squadra che ha cambiato allenatore da poco il normale non affronta un ottimo momento di classifica però le partite che ho visionato che ho visto ultimamente loro ti fa capire che è una squadra che la partita se la gioca come detto tutti da filo da torcere quindi non è una partita facile non è una partita facile no no sicuramente per la vittoria di mercoledì siamo molto contenti perché come te l'ho detto in precedenza è una vittoria che noi ci aspettavamo tutti l'abbiamo raggiunta con merito però adesso come detto tu non ci dobbiamo fermare sappiamo che affrontiamo una buona squadra che sta in difficoltà però io sinceramente sono un po' preoccupato per domenica perché domenica è una classica partita che hai tutto da perdere e nulla da guadagnare quindi dobbiamo essere bravi noi impattare subito la gara con la cattiveria giusta la concentrazione giusta e portare subito la gara dalla parte nostra trasferta complicata infine per il Giulianova Rieti i laziali a distanza di parecchie settimane ritrovano lo stadio consueto il Maglio Scopigno dopo aver disputato le ultime gare al Gudini per i giallorossi ulteriore test per assaggiare quanto questa squadra abbia cambiato realmente marcia davanti Barlafante e Paudice sono le armi di Leonardo Bitetto per farmare agli amaranto celesti mai vittoriosi nel gerone di ritorno e reduci da una striscia negativa molto lunga dopo quella stra positiva che le aveva viste addirittura comandare il girone durante la fase 1 del torneo Giulianova che però in trasferta deve tornare a fare il bottino pieno l'ultima volta è stata il 3 marzo nel recupero contro l'Agnonese successo pirotecnico per 2-3 rinviata infine la gara tra Montegiorgio e Vastese è tutto il TG6 termina qui io vi ringrazio per averci seguito se volete un demand ci sono i nostri servizi sui social su youtube e sul sito tv6.it da parte mia l'augurio di una buona serata grazie a tutti